che dico è così d'altronde avete scelto di essere dalla Roma essere romanista è sofferenza ma voi vi pensavate che ieri andavate lì tre fischioni alla Fiorentina semifinale già chi vedeva il derby in finale purtroppo questo è un momento anche per ammissione qui degli stessi addetti ai lavori che iniziano a fare le ammissioni che dice sabatini abbiamo fatto il mercato troppo tardi Garzia più di questo non possiamo fare un tiro nello specchio avete sentito la porta questa cosa qua così no? tu devi fare un tiro nello specchio il portiere è Tatarusano che cazzo di nome è Tatarusano non ha dovuto fare una mezza parata niente io mi ricordo un tiro dei Nainggolan fuori un tiro degli Aici fuori ma cazzo lo specchio ma fermatevi un'ora in più Erbarone Erbarone faceva fermare i cacciatori a fine allenamento a fare i tiri sul muretto eh? e da ma è possibile che stiamo stiamo così stiamo messi veramente così che poi ieri nel primo tempo hanno anche corso un po' di più magari qualcuno correva a voto però si vedeva un po' più cioè non è che uno manco gli può imputare la mancanza di impegno è che proprio questi non gliela fanno capito? è questo che non gliela fanno ma vai a cagliare quelli stanno guardando avvetrato già per le cose degli anni passati eccetera in più si devono salvare perché stanno con l'acqua alla gola in più è una squadra che è stata preparata fisicamente perché a Zeman gli ipotete di tutto tranne che non prepara le squadre fisicamente che non le fa lavorare in estate e niente qui ma stiamo veramente a che ne so la santi barbo il barbo che magari ecco la novità potrebbe ieri quando è entrato insomma l'ho visto che ha cercato di creare un po' di guazza a buio in difesa perché poi è uno alto un gagnone forte fisicamente resiste ai contrasti ha preso un carcio qui eh siamo verde però ecco c'è sta proprio gente che è fuori dal coro campioni che dovrebbero caricarsi la squadra che non lo fanno gente che fa il tocchettino e poi però quando c'è stata Randella se nasconde io manco voglio fare i nomi cioè sarebbe troppo facile gli avvi di che la coppia centrale è da brivido che Benatia e Castanna in confronto so che ne so Beckenbauer e Franco Baresi che Maicon si è fatto un sonno che sembravano due che Paredes stava a giocabare ma perché cazzo l'hai levato cioè comunque stava quantomeno ragazzi quello è giovane corre Randella magari sta facendo meno dal punto di vista propositivo perché io quando l'hanno l'hanno preso pensavo che fosse diciamo un fantasista da mettere dietro alle punte mentre invece questo sta dimostrando di essere anche un centrocampista che è Randella e tu me lo vai a togliere e in pratica così gli consegna il centrocampo però io manco me la voglio piacere cioè è proprio una situazione proprio generale cioè come una nuvola una nuvola una nuvola una nuvola dei fantozzi cioè cercamo di ci vorrebbe una scintilla ieri poteva essere sta scintilla perché comunque sarebbe stata una vittoria contro una squadra importante e un passaggio alle semifinali contro il Cagliari non lo so se può essere una scintilla però tanto vinciamola vinciamola e rimettiamoci in carreggiata poi piano piano tornerà sto cazzo di Gervinio verrà sto cazzo di Dumbia e piano piano riusciremo forse ecco De Rossi magari torna e riusciremo magari a rifare una formazione degna di questo nome per il momento che cazzo vi devo dire siamo romanisti stiamo vicini alla squadra e sempre forza Roma e vaffanculo e vaffanculo